Una perizia di due ingegneri incaricati dalla procura ha escluso l'atto doloso nell'incendio nella casa della famiglia Corasaniti avvenuta nella notte del 21 ottobre del 2022 in cui morirono i tre fratelli Saverio, Aldopio e Mattia. Con probabilità si legge nel documento superiore al 75% l'incendio è dovuto ad un'esplosione di una delle batterie al litio di uno dei sei laptop o di uno dei due tablet in carica nella notte, probabilmente tutti custoditi all'interno dei cassetti di un mobile e quindi privi di ventilazione. L'esplosione è il conseguente incendio delle batterie di una delle apparecchiature sottocarica che ha poi potuto anche propagarsi alle altre apparecchiature e quindi portare in fuga termica tutte le batterie delle restanti apparecchiature, giustificando così ulteriormente la portata dell'incendio. L'atto doloso era già stato escluso dai periti nel primo sopralluogo effettuato nella casa dei Corasaniti. L'attenzione quindi si era concentrata su altri fattori. Oggi la perizia conferma che il ruogo sarebbe partito dal soggiorno. Nei due sopralluoghi infatti è emersa la presenza di prolunghe o prese multiple nonché di apparecchi che a seguito di errato utilizzo o di possibili guasti hanno potuto innescare l'incendio. I due ingegneri spiegano che anche se raramente vi sono stati casi di incendi divampati in circostanze nelle quali l'impianto elettrico o il suo uso non avevano alcuna relazione con l'evento, la causa è comunque da iscriversi a causa elettrica. Il dramma quindi che ha strappato alla vita i tre giovani catanzaresi sarebbe da ricondursi al fatto di aver tenuto chiuso in un cassetto non ventilato e in carica per molte ore un dispositivo dotato di sistema di accumulo al litio.